Nell'ambito di questo prossimo evento di Orienteering che è stato programmato per l'aprile del 2025 siamo molto felici di annunciare che Catasta parteciperà come partner di progetto e svolgerà il ruolo di ospitare il centro gare che per noi è un onore poter svolgere questa funzione perché in qualche modo è anche una funzione di accoglienza, aspettiamo persone che arriveranno da tutta Italia e da tutti i paesi latini di lingua latina per cui la Catasta svolge una sua funzione proprio in quest'ottica, cioè quella di presentare in un solo punto l'offerta del Parco Nazionale del Pollino dà la possibilità di un colpo d'occhio su quella che è l'offerta del Parco e nello stesso tempo quando noi diciamo che la Catasta è un hub turistico e di culture intendiamo proprio la possibilità di una interazione come operatore e insieme agli altri operatori nel tessuto dell'offerta turistica e noi vogliamo credere molto nell'offerta turistica anche che viene dagli eventi sportivi, questa è una funzione importante che vuole avere la Catasta lo facciamo attraverso anche altri eventi sportivi tipo il Pollino Bike Festival che collabora con la Marathon degli Aragonesi cioè non è la prima volta ma noi vogliamo sottolineare l'importanza che diamo come operatori turistici nel Parco del Pollino a questo evento sportivo che può diventare un vettore importante del turismo del Parco